Torino ritira il suo Stratos e adesso gli facciamo vedere come si fanno le manutenzioni come ti chiami? lui è sempre Edo, ve l'ho presentato l'altra volta che ha fatto il contratto e oggi lo ritira in lontananza invece vedo, Vittorio e Tim, Pescara! hanno appena fatto a Crecchio di tutto e di più e lui invece è rimasto qua pulito ad aspettarli e ha detto no, 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 non voglio sporcarmi io quest'anno resto qua alla Victory e dopo quando vi siete sporcati tutti io vado a fare la passarella perché questo è un mood da passarella, non è un mood normale questo è più bello, qui c'è l'effetto mix mix, 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 i colori si mixano, il giallo e il rosso da una parte c'è il rosso e dalla parte c'è il giallo perché? Perché a noi piace distinguerci, piace avere le cose che gli altri, mi spiace, mi spiace, mi spiace ma le abbiamo solo noi, sono più belle, sono più esclusive si chiamano Victory, XR4, mood, grafica mix così, da un lato è un colore e dall'altro è l'altro ciao ragazzi, Pescara divertiamoci, siete fantastici viva Crecchio, viva, come si chiama? Palud Trophy, ho fatto una promessa, l'anno prossimo ci sarò anch'io wow cosa vedo qua? Igor, scuolaquod.com, siete proprio appassionati voi qua vedo un Yamaha Racing i motori, a noi italiani, fanno l'effetto passione pura adrenalina e come le donne, stessa cosa ci corriamo sempre dietro, ciao 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 ciao